E' iniziato questa mattina a Ravenna il processo per la morte di Pierpaolo Minguzzi, il carabiniere ventunenne di stanza Mesola nel Ferrarese, rapito e ucciso in una notte di aprile del 1987. 33 anni dopo potrebbe quindi finalmente emergere la verità su un feroce delitto rimasto per troppo tempo irrisolto, arricchiviato nel 1996 come caso insoluto. Alla fine del 2017 la Procura della Repubblica decise di riaprire le indagini su richiesta della famiglia Minguzzi e sulla base di una serie di elementi. A rispondere di sequestro di persona, omicidio e occultamento di creadavere sono due ex carabinieri all'epoca in servizio ad Alfonsine, Orazio Tasca e Angelo Del Dotto, ultra 55 anni, e l'allora itraulico del paese Alfredo Tarroni, ultra 60enne. Secondo l'ipotesi accusatoria i tre erano estorsori seriali, avevano rapito Pierpaolo Minguzzi per chiedere un riscatto alla famiglia di imprenditori, gettando poi il corpo del giovane nel po' di volano legato ad un'infariata dal peso di 16 kg. Secondo la Procura, la richiesta di 300 milioni di lire della banda arrivò quando Pierpaolo era già stato ucciso. Tre mesi dopo avvenne un'altra estorsione, molto simile al caso Minguzzi ai danni di un imprenditore dell'ortofrutta. È questo uno degli elementi principali dell'ipotesi accusatoria. La seconda estorsione si è conclusa con un'operazione dei carabinieri, una sparatoria e la morte di un altro giovane agente, Sebastiano Vetrano, 23 anni. L'arresto e la condanna ad oltre 20 anni dei tre attuali imputati. Per avvalorare i nuovi elementi, il procuratore capo Alessandro Mancini e il sostituto procuratore Marilu Gattelli a luglio del 2018 disposero alla riesumazione del corpo di Pierpaolo Minguzzi. Un anno dopo l'arresto delle tre persone accusate. Ora l'avvio del processo per stabilire finalmente la verità.